Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video Io sono Efra e Manu Amici miei oggi siamo ritornati su Clash Royale Era da un botto di tempo che non ritornavamo su Clash Comunque ragazzi mi raccomando Prima di iniziare col video lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Il vostro Manu vi fa gli auguri Buona vigilia di Natale a tutti Comunque ragazzi Fatte le dovute promesse Oggi ragazzi andremo a potenziare il nostro arciere pirotecnico di livello 14 Nello scorso episodio abbiamo fatto il Gran Cavaliere di livello 14 Adesso tocca all'arciere pirotecnico Comunque andiamo ad aggiungere immediatamente dei jolly E subito dopo con le monetine direi di andarla a potenziare di livello 14 Finalmente è arrivato anche il suo turno Raga pian piano raga stiamo completando tutto il nostro deck Oggi ragazzi raga per Anzi vi ricordo raga che per giorno 24 e giorno 25 dicembre raga Dovrebbe essere così se non sbaglio E forse anche giorno 26 ecco Avrete disponibile la corsa all'oro Quindi mi raccomando raga giocate a clash che vi fate un botto di monete Allora ragazzi vediamo come va questa partita Questo mi sembra Tutta la vita un 2.6 Non lo so ma credo che sia proprio così Vatti con la fireball Quella brutta fireball veramente Allora ragazzi questo mi sembra un pochettino A guardare dal nome e a guardare dall'emote Mi sembra un pochettino un panino Comunque Allora Ovviamente se qualcuno non sa che cos'è il panino È il bambino ovviamente Allora io stavolta non ti faccio avanzare con questo Domatore di cinghiali Adesso vado col boscaiolo Mi servirebbe un bel moschettiere Ma anche No 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 Cioè Non possiamo andare avanti raga Cioè Attenzione però forse arrivo in torre Attenzione il gran cavaliere di livello 14 Fa una bella hit molto importante Abbiamo la principessa raga Purtroppo ok Non viene eliminata Ottimo così Allora ragazzi Dobbiamo stare attenti Luce la pure di livello 14 Direi di aiutare il nostro moschettiere Perfetto Purtroppo riesce a tirare un'altra hit Ma vabbè Comunque siamo in vantaggio raga Quindi stiamo attenti Che siamo anche in vantaggio Purtroppo la valchiria Se è andata a farsi la passeggiata Allora 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Mmm Io credo che lui ora Cominci a mettere Il Il domatore di cinghiali Raga Però noi ci mettiamo un bel Bombarolo di livello 14 Arciere pirotecnico Raga Il domatore Giampa Noi non lo facciamo passare Ovviamente E Continuiamo Adesso raga Io direi di mettere Un bel moschettiere Esatto Raga Esatto Esatto Proprio per questo Ho voluto metterlo Ok Allora direi di mettere subito Un bel tronco Il gran cavallo Izzica Raga Do Ha rimesso Nuovamente Il cannone Cicla tantissimo Raga Il 2.6 Cicla tantissimo Noi abbiamo la furia Raga Cerchiamo di non farlo Hittare Ok Lui ha la fireball Raga Super cattiva Che potrebbe buttarmela Immediatamente Ok Glielo distruggiamo Abbiamo attivato la centrale Il moschettiere Hitta Ottimo Ottimo Così vediamo se la principessa Riesce a fare almeno un hit Ok La fireball Ci arriva in torre Ok Riesce a fare un'altra hit La principessa Ok Io direi di mettere anche Un altro tronco Così non Subiamo danni Dal donatore di cinghiali Stand and death Raga Lui stavolta Mette il cannone Indietro Così che il moschettiere Non riesce a raggiungerlo Ecco Mette purtroppo la fireball Siamo attenti Raga Siamo attenti Direi adesso Di mettere Ok Mette lui Io direi di mettere anche Il tronco Raga Il domatore riesce a farci un hit Purtroppo Anzi no Due Mannaggia Raga La ragazzi Dobbiamo giocarcela in difesa Per lo più in difesa Quindi ragazzi Io direi Di non Di non attaccare più Anche se ragazzi Lui ha il tronco E La maledetta Fireball Raga Questo è un grande problema È un enorme problema Raga Ok Non riesce Ad hit Il domatore Siamo riusciti Vediamo se la cerepirotecnica Riesce a colpirlo Vabbè Riesce a fare un bel po' di danni Almeno Io metto la principessa Da questa parte Il gran cavaliere Giampa Raga È molto utile Ok Purtroppo Non riusciamo A Uccidere il moschettiere Però Mettiamo questo Adesso ci dobbiamo Difendere subito Dall'altra parte Esatto Lui raga Comincerà sicuramente A ciclarmi Tutta la vita Le sfere infuocate Raga Quindi dobbiamo stare Molto molto attenti Direi che Ce la dobbiamo tenere Assolutamente Attenzione La cerepirotecnica Riesce a fare un hit Mettiamo il tronco Che fa un hit Ok raga Manca poco E forse ce la possiamo fare Raga Contro questo 2.6 Lui ovviamente Comincia sempre a tirare Le fireball Ragazzi Mettiamo L'ultimo tronco Che ci salva in extremis Amici miei Gran cavaliere Che ci difende E gliel'abbiamo Proprio messa Nel tronco Raga GG per noi GG per noi Ragazzi Su con la prossima Ok ragazzi Siamo qui Con la seconda partita Abbiamo incontrato Ugo R2 D2 Che forse potrebbe stare Come 202 Non lo so Ragazzi Questo è un livello Re 14 Mi sembra molto Molto cattivo Questo Allora Valchieri a livello 14 Direi di Difenderci Mettiamo la nostra Valchieri anche Da questa parte Ha il Cuccio di drago Livello 14 Vediamo se il nostro Moschettiere Può aiutarci Molto pesante Raga Quella Mini pecca Ok Vediamo se riesce a fare Molte hit Vediamo 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 Forse riesce a fare Un hit Ottimo Ottimo Così Dai Vediamo Mettiamo la Cerepilotecnica Si Potrebbe fare Qualche hit No Non l'ha fatto Purtroppo Ragazzi Io me la devo Azzardare Col gran cavaliere Per forza Per forza Non posso Piazzare Altre carte Allora La prima partita Raga È durata Un botto Ma veramente Tantissimo Raga Purtroppo Non riesce a fare Il salto Però forse Raga Andiamo a hit In torre Ok Ok Direi che Ci può anche stare Ok Lui mi butta Il tronco Io devo stare Un po' Attento Mi devo far aiutare Anche Della principessa Della mia torre Raga Perché Lui potrebbe Piazzare Tranquillamente Un Mini pecca E vediamo No Ha messo Lui Ok Ci può anche stare Io adesso Metto Lei Vediamo Se c'è a fare Almeno un hit Ok Può anche Andarmi bene Ok Ok Vediamo Mettiamo Una valcherina Perché non Mi voglio Far itare La torre Raga Siamo In vantaggio Sì Come livello Della principessa Però ragazzi Con un domatore Ci potrebbe Già distruggere Subito Però ragazzi Si è attivato Il per due Mettiamo la principessa Da questa parte Cominciamo a difenderci Boscaiolo Ottimo Ottimo Così Raga Non lo so Va bene Mettiamo il moschettiere Da questa parte Lui ovviamente Mi va ad eliminare Una principessa Però ragazzi Ho visto che Il boscaiolo Ha itato La torre Quindi Ottimo Ottimo Così La sapete una cosa Raga Io direi che Butto un bel tronco Mettiamo una bella Principessa Così Andiamo a Infastidirlo Ok Lui mi butta Quello Io Devo Assolutamente Mettere Un gran cavaliere Per distrarre Raga Lui non mi butta Attenzione Non mi sta buttando Il Il domatore Di cinghiali La sapete una cosa Raga Ok Mi ha messo Il mini pecca Me lo aspettavo Ok Può anche andare bene Vediamo No Non riesce a itare Purtroppo Peccato Raga Peccato Vediamo se Riesce a Prendere la furia No Dobbiamo subito Difenderci Raga Immediatamente Immediatamente Raga Quello fa Molto male Raga Fa Troppo male Fa il domatore Fa troppo Troppo male Allora Mettiamo L'arciere Pirotecnico Da questa parte Dovremmo Eliminarlo Sì Ottimo Così Allora Vediamo Raga Se riusciamo Ad eliminargli La valchiria Sarebbe un'ottima Cosa Subito Prepariamo Il tronco Non dobbiamo Far itare Il domatore Di cinghiali Ottimo Così Ottimo Così Vediamo Forse No Purtroppo Non arriviamo In torre Però Con la furia Attenzione No Non riusciamo Nemmeno Vediamo Se il moschettiere Prova arrivare in torre Tira un colpo Attenzione Ne tira Soltanto uno Raga Soltanto uno Va bene Va bene Subito Domatore Sì Domatore Gran cavaliere In difesa Del domatore Di cinghiali Tronco Che ci salve in extremis Anche questa volta Adesso raga Mancano Elisir per tre Quindi veramente Si fa un casino Allora Lui ancora Continua a difendersi Attenzione Attenzione Il Manu Se la gioca bene Gran cavaliere Lo infastidiamo Subito Dobbiamo difenderci Attenzione raga Non mi devo far itare Ok Invece mi ha itato Va bene Ok Che la principessa Tira un colpo E ce l'abbiamo fatta Anche questa volta Ottimo così Ottimo Ottimo così Cassa colma d'oro Raga Ottimo così Molto molto bene Ragazzi Io direi che Anche queste due partite Possono anche andare bene Il video non è neanche venuto Neanche così tanto corto Quindi direi che Ci può anche stare Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto È stato così Mi raccomando Lasciate un bel pollicione In su Mi raccomando raga E iscrivetevi al canale Ovviamente Se non siete ancora iscritti Ragazzi Noi ci becchiamo Un prossimo video Buona vigilia di Natale A tutti raga Qui dal vostro mono di quartiere Come al solito è tutto Ragazzi Ci becchiamo alla prossima Bella